Neos che ne, manifesti d'artista al Teatro Rifredi, è il progetto artistico di due giovani ideatori e curatori, Simone Teschioni Gallo e Niccolò Mannini, nato ad ottobre quando le restrizioni Covid hanno costretto i teatri alla chiusura. A quel tempo il direttore artistico del Teatro Rifredi, Giancarlo Mordini, ironizzava sui social sul fatto che il materiale grafico degli spettacoli sarebbe servito solo a fare delle barchette. Da questa affermazione è nata la rivisitazione delle locandine da parte di cinque artisti per far rivivere una cultura che non si è mai fermata. Con Simone l'idea ci è venuta vedendo il posto di Giancarlo, ma soprattutto cercando quella connessione tra teatro e arte visiva, che durante tutto il corso del Novecento è stata fondamentale, penso a De Chirico, a Severini, a Picasso, che si hanno disegnato i costumi e le scenografie delle opere teatrali. Una sfida che è stata colta in modo molto convinto dal Teatro Rifredi e da una selezione di artisti, che sono Irene Bulletti, Leopoldo Innocenti, Schim, Leonardo Moretti e Rossella Liccione, che hanno saputo veramente trasformare queste locandine, dando ognuno con il loro linguaggio, i loro simboli, la loro arte, una nuova vita. Nonostante ci si possa fermare, però ripartire dall'arte e dalla cultura è non tanto un sambagente, ma una certezza. Mi piace dire a me un po' ancora di vita, anche se di base l'ancora porta a fondo, ma in questo caso l'ancora è un punto fermo, ecco inteso. Grazie. 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 Grazie.